Un cordiale buongiorno ad Andrea Biagioni di Florence Multimedia e con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipli a causa di lavori di manutenzione 4 km di coda tra Montelupo Fiorentino e Lastra Signa in direzione Firenze. Rallentamenti invece tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno sempre a causa di lavori. A Firenze per rifacimento pavimentazione in via Montepulciano previsti di vieti di sosta e transito tra via di San Quirico e piazzetta di Montalcino. Si sta per aprire una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico locale in vista del rientro a scuola degli studenti. Presto aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde del trasporto pubblico locale è 800 570 530. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!